Amici sportivi di Vallesina TV, ben trovati nella rubrica del lunedì con lo sport. Si parla del campionato di promozione Girone A, ventunesima giornata, quella disputata ieri sul campo della filotranese. Di scena la mosaico Vallesina in maglia bianco-azzurra, maglia rosa con pantaloncini e calzettori neri invece per la filotranese con le immagini. Siamo alle battute iniziali del primo tempo. Vediamo anche le formazioni per la filotranese Andrada, Giacchè, Dignani, Meschini, Filipponi, Ramaccini, Marcheggiani, Magrini, Ziccardi dal novantesimo Veschi, Cesaroni e Perez, allenatore Scoponi, l'ex giocatore della Fermana. Per quanto concerne la mosaico Vallesina, numero 1 Cortiso, numero 2 Foroni, numero 3 Cucco, numero 4 Masei, numero 5 Moretti, numero 6 Giorgini, numero 7 Busca, numero 8 Verdenelli dal 75esimo Bevilacqua, numero 9 Cardinali dal novantesimo Carbone, numero 10 Cocilovano. numero 11 Ruggeri, allenatore De Amicis, dirige il signor Dascanio della sezione di ancora, ancora mosaico in avanti, pallone sulla corsia di destra per Busca che mette in mezzo l'uscita attenta del portiere Andrada che recupera la sfera. Qui c'è invece un'azione d'attacco da parte della Filotranese, il tentativo di cross dal fondo, ancora Cortiso ben piazzato sul primo palo, blocca la sfera. C'è il cross nel frattempo di Ziccardi, pallone in area di rigore, ancora Cortiso in anticipo, Giorgini effetto invece questo cross che si perde oltre la linea di fondo per la mosaico. Siamo sempre nel corso del primo tempo, intervento in tegel scivolato, calcio di punizione per la Filotranese, la battuta ancora di Ziccardi, pallone altissimo sopra la traversa, gara decisamente aperta. Ricordiamo mosaico che è capolista del girone A con un punto di vantaggio sulla fortitudo, Filotranese invece in terz'ultima posizione di classifica. E' tanto ancora l'opportunità per la mosaico, pallone che rimane in area di rigore, l'uscita con i pugni del portiere Andrada che allontana. Qui c'è Cocilova che recupera il pallone in tandem con Foroni, poi arriva Marcheggiani, si aggrappa adosso a Cocilova, calcio di punizione e ammunizione per il giocatore della Filotranese. Prova ancora a disimpegnare la Filotranese, il recupero questa volta di Ruggeri che prova la conclusione, si accentra carica il sinistro, pallone che non inquadra però lo specchio della porta. Nel frattempo qua c'è il fallo di Verdenelli, calcio di punizione per la Filotranese, un pallone ancora morbido che senza problemi recupera Cortiso all'interno della propria area di rigore. C'è ancora un fallo invece della Filotranese, velocemente la mosaico si porta in avanti, pallone a pochi passi dalla porta, arriva Busca e da veramente pochissimi centimetri in area di porta riesce di piatto sinistro a mettere dentro il gol dell'1-0. Siamo al 35esimo minuto del primo tempo e c'è il gol del vantaggio della mosaico che dunque sblocca a proprio favore il punteggio con la Filotranese che prova subito a reagire. Qui il fallo, pallone messo in mezzo, la girata, il volo di interno destro di Meschini, siamo praticamente in chiusura di tempo. Bravissimo Meschini a coordinarsi, a trovare il piatto sinistro che batte Cortiso sul primo palo. Gol del pareggio, 1-1 dunque tra mosaico e Filotranese, con le immagini siamo passati già al secondo tempo, visto che la Filotranese ha trovato la rete del pareggio proprio nei secondi conclusivi della prima frazione. Mosaico che nel frattempo prova ancora a riportarsi in avanti, l'opportunità ancora per Busca, ma l'uscita attenta di Andrada che recupera la sfera. Qui è Cortiso che invece riesce a recuperare senza problemi il pallone, ancora in avanti la Filotranese con questa conclusione al volo di destro da parte di Zicardi, pallone altissimo sopra alla traversa. Prova nuovamente la mosaico-vallesina con Busca, fallo di mano, la punizione battuta da Ruggeri, anche nella circostanza pallone che non inquadra, lo specchio della porta e si perde sul fondo. Nuova opportunità per la mosaico con questo calcio di punizione, il colpo di testa in area di rigore di Cardinali e l'intervento ancora del portiere Andrada. Insiste la mosaico, nuova opportunità sul primo palo, ancora l'estremo difensore della Filotranese che recupera il pallone. Opportunità questa volta invece per la Filotranese, dal limite prova Zicardi a sorprendere Cortiso con un tocco di esterno-destro, mentre su questo lungo lancio c'è l'opportunità di testa, ma pallone ancora una volta recuperato d'Andrada come in questa azione. Prova nuovamente la Filotranese con la circostanza Veschi che prova a mettere in avanti il pallone, c'è il recupero ancora di Cortiso e praticamente si chiude qua la partita. Dunque secondo tempo senza grosse occasioni, pareggia 1-1 sul campo della Filotranese la mosaico e rimane ancora al comando della classifica.